Il cantiere di oggi è il 26 di maggio 2022, è a Novellara e questa è la prova penetrometrica dinamica e si individuano dei terreni argillosi con una falda acquifera superficiale abbastanza prossima alla superficie, intorno ai due metri di profondità. E comunque verificherò poi nel corso delle diverse indagini prove fatte, tale precisamente la profondità della falda. Quindi sono terreni plastici, come per esempio il dash che maneggiavamo quando eravamo bambini. Ecco, su questi terreni, detti anche coesivi, abbiamo dei cedimenti che vengono rilasciati nei corsi dei decenni, decenni e se non centinaia di anni. Qui verranno fatti dei plinti o forse si tratta di una tensa struttura, quindi probabilmente si ragionerà su delle fondazioni a cordolo continuo. Questo è tutto, proseguo poi con le indagini non solo penetrometriche ma anche sismiche. Oggi temperatura è abbastanza bassa, siamo sui 27 gradi, c'è anche venticello.